ragazzi buongiorno a tutti ragazzi in questo video raccontrò di Assassin's Creed Shadows che secondo me la mia opinione potrebbe essere che potrebbe essere un capolavoro oppure dei soliti videogiochi ripetitivi dei sistemi ripetitivi con la stessa ambizione diversa ma mi ha dato in Giappone perché io so che Assassin's Creed Shadows sarà mi ha dato in Giappone giustamente avrà due protagonisti e tra questi sono anche Yosuke che praticamente è l'affricano di colore che effettivamente è che è proprio l'affricano di colore che che fa il samurai ed è bella tutta una figura veramente resistita in Giappone di questo qua il primo samurai di colore ma tanto è una leggenda vera che è diventata vera ma tanto a parte questo ci sono tante tante quelle belle sicuramente questo sarà bello anche il peccato che che tutti ci sono scritte proprio diciamo che sono ripetitivi ripetitivi eccetera ma in fondo anche se ripetitivo se ripetitivo secondo me il gioco potrebbe essere bello magari imparano delle lodi e non è proprio ripetitivo chi lo sa ragazzi lasciate un'opinione nei commenti ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti